Quattro consiglieri regionali che aderiscono alla copiata federata Azione Italia Viva, la maggioranza di Michele Emiliano che rimane intatta nei numeri ma che inizia davvero a scricchiolare. La Puglia non è il sultanato di Emiliano, se dovesse continuare con questo metodo sarà messo alla porta come fu messo alle porte del Mise. A minacciare lo sgambetto al governatore pugliese il leader di Azione Carlo Calenda che dalla sala stampa del Consiglio regionale della Puglia annuncia l'adesione al suo movimento di Fabiano Amati, Ruggero Mennea, ex partito democratico, Sergio Clemente della lista per la Puglia con in aggiunta Massimiliano Stellato che aveva invece annunciato di passare dai popolari a Italia Viva di Renzi. I quattro non staranno all'opposizione ma di fatto metteranno alle strette Emiliano sui temi. Io mi sento molto vicino a loro perché ho provato a fare lo stesso percorso, ho cercato nel PD di trovare una linea intanto che dicesse qualcosa perché oggi il problema del PD è che dentro ha talmente anime diverse, talmente tante anime diverse che non riesce a dire nulla. Quello che noi vogliamo stabilire oggi è che questo non è il sultanato di Michele Emiliano, è un posto libero, una grande regione italiana che può essere assolutamente il traino del Mezzogiorno perché è una delle regioni più moderne del Mezzogiorno. Calenda è poi tornato sulla candidatura di Massimo Cassano alle scorse politiche e lo definisce un errore chiarendo che l'ex Forza Italia prenderà comunque un percorso diverso da quello di Azione. A prendere le redini qui in Puglia del movimento sarà invece proprio Amati tra le principali voci critiche di Emiliano negli ultimi mesi. Noi staremo in Consiglio regionale come siamo stati sinora, eletti dai cittadini per fare la maggioranza, però come i cittadini lo intendono. I cittadini intendono la maggioranza così, c'è un problema e tu mi proponi una cosa per risolvere il mio problema, per risolvere il mio dolore, per risolvere la mia difficoltà. Non ci mandano qui per fare i giochi dei soldatini, per piazzare sulla scacchiera della politica. Quindi noi staremo così come siamo sempre stati, critici quando occorre, concordi quando è giusto esserlo.